Ueeh! Salve a tutti uocikebari e oggi bentornati su Mario Party 10, andiamo in giochi extra, partiamo con Baddington per tutti, singolo, un giocatore, Waluigi contro Rosalinda, famosa ship terribile di Super Mario, direi che possiamo farcela, in realtà era proprio quello che volevo eh. Ve lo dico subito, non mi piace questo sport, ma tanto penso che lo sapete se avete visto la mia serie di Mario e Sonic ai Geocolimpici di Londra 2012. No, 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 per me lei farà punto sicuramente. Ok, no. Ma dai, oh che cattiveria sei! Ok. No, Waluigi. Veloce Waluigi, devi essere veloce. Ti voglio carico Waluigi. Ma dai, com'è 3 a 2? Ah ragazzi, lo vediamo soltanto una volta questo minigioco, non lo faccio un'altra volta. Oh no, 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 pezzenta. Rosalinda è... Allora, quando va lì, sull'azzurro, quasi fuori, vuol dire che è il punto dell'avversario? Può anche essere il mio? Ok, pari merito siamo. Ok. No! Eh sì, raga. Ah, io non so le regole del baddinton, eh. No, 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 no. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto il baddinton come sport. Non credo a nessuno, eh. Sei? Parapaparaparam. No! Ma dai! Porca! Paaah! L'odio! L'odio, raga. L'odio è enorme. Molto bene! Molto bene! Questo mi è piaciuto. Eh, ma così gli regaliamo il punto, maledizione. Eh no, ma... Aaaaaah! Pensavo che andava nell'azzurro, non so parlare, raga, oggi, eh. Oggi, raga, non so parlare. Ok, 8 a 11. Dai, concentrazione, forza. No. Ma dai, ma... Perché va sempre là, scusa? Perché sono io a mandarla, ovviamente. Con le freccette posso fare l'angolo della... Cacchio di... Non è anche una pallina questa. Siamo a 10 a 12. Posso direzionare bene il tutto. No, no, no. Aaaaaah! Gli regalo il punto. Non so parlare, evviva che bellissimo commentary, che bello, è già tipo la quinta volta che faccio sto video. Insomma, 12 su 13. Ok, non era là sopra. No, 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 no. Ma va che palle che sei, Rosalinda. Vabbè, anche se perdiamo, ragazzi, non importa. Ce la facciamo bastare e poi passiamo agli altri miniciochi extra. La musica comunque, raga, ci sta un botto, eh. Ah, grande. A che... Non so, a che punto bisogna arrivare poi? No. Gliel'ho regalato. Porca di quella miseria. Molto bene, 15 su 16. E dura tanto. Questo minigioco. Dura troppo. Dura troppo. E siamo a 16 su 16. Parapaparapam. Dai, Waluage. Ecco. L'ho superata. Adesso lei mi supererà sicuramente. Beh, vaffanbrodo. Ah, no. Fatto io, raga. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. 19 su 16. Let's get it. Let's get it. Non ci provare. Maledetta. Maledetta. È stanca? Sono a 20, eh. Match point. Match point per Waluigi. Waluigi. Vittoria. È andata sull'azzurro. È andata fuori. È andata fuori. Waluigi vince. Commentata da cani sta partita, eh. Ve lo dico io, ragazzi. Gemme cadenti. C'era anche Mario Party 9, questo, credo. Allora, andiamo con Waluigi. Ho scelto di non sfidare nessun giocatore. Collega 4 più gemme dello stesso colore. Per farle sparire. Eccoci qua. Allora. Ma perché non l'ha collegato, scusa? Ah, ecco. Mettilo giotto questo. Ok, questo comunque ha funzionato. Mettiamolo così. Non ha funzionato, ma pure questo. Ok. Ok, molto bene. Ok, qua. Aspetta. Miseriaccia te. Vai che lo scuotiamo per benino. Sono a 70 punti. Recore 96, quello che sembra. Non vi mostro anche la modalità quella contro. Perché non mi interessa. Ho fatto una stella, raga. Stanno tutto quanto a fortuna, quanto sembra, eh. Ok. Penso che se io, ragazzi, lo mando a cazzo completamente, sbaglio, eh. Perché i pulsanti comunque li sto premendo, eh. E qua, ragazzi. E qua, ragazzi, sto facendo un casino, mannaggia me. Ok, perfetto. Ok, perfetto, perfettissimo. Due stelle, ottimo. Abbiamo superato il record. musica molto, molto carina. Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Eh, lo stiamo riempendo di brutto, ragazzi, eh. E ormai, ragazzi, abbiamo riempito a dovere, eh. E ormai, raga, è riempito così tanto che ormai è andato. 193 punti abbiamo fatto. Ok, sembra che siamo arrivati terzi, è quanto sembra. Ma a noi non ci importa una beata. Uaaah, lo asia. E ora andiamo a fare sfida di Bowser Jr. Martellata Bowser Jr. Lo testate sotto Bowser Jr. Ma Luigi, tu sei la star di oggi. E andiamo a picchiare Bowser Jr. Bisogna rubargli il martello. Bowser Jr. Potete usarlo come personaggio giocabile in Mario Party Island Tour. È in Super Mario Party, mi ricordo. Vabbè, eh, fra... Fra una cavolata di minigioco. Diciamo che se usate Wario forse è più difficile. Povero Bowser Jr. Povero Bowser Jr. Povero Bowser Jr. E in realtà non... No, in realtà non per niente, povero. Ok. Testate sotto Bowser Jr. Sempre il nostro caro Waluigi. Ma aspetta, ma vi immaginate se c'è Bowser Jr. Nel film di Super Mario? Sarà doppiato sicuramente da una donna, eh. Me lo aspetto. Waluigi, ragazzi, non lo so. Di questo, raga, non ne so proprio, eh. Ve lo dico io. Ok. Non scappare. Non scappare, pezzente. Non scappare. Ecco, fatto. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Vittoria di Waluigi. Pam, pam, pam. Let's get it. Ora andiamo avanti con torneo dei minigiochi. Facciamo anche questo oggi. Un giocatore. Waluigi. Wario, Daisy, Yoshi, Luigi, Todd, Donkey Kong e Mario. Molto bene. Non c'è la Rosalinda, eh. È troppo, troppo, troppo traumatizzata dalla mia vittoria, eh. No. Sto scherzando, ragazzi. Sto scherzando. Bella gente. Ok. Ci siamo, ragazzi. Benvenuti al torneo dei minigiochi. I partecipanti si affronteranno una serie di minigiochi. Vince chi rimane in gioco fino alla fine. Bene, si comincia. Del massimo di cercare di raggiungere la vetta. Ok. Sono contro Luigi, Daisy e Donkey Kong. Nella prima battaglia sfideranno questi quattro giocatori. Sono i primi due verranno ammessi al turno successivo. Ok. Fai qualcosa di bello, per favore. Spin tornadi. Ormai stiamo vedendo più... Minigiochi già visti, eh. Si spera di non perdere, grazie. Perché non voglio... Arriva, lo è ultimo. Donkey Kong è arrivato ultimo, raga. Donkey Kong non parteci... Luigi. Uuuuh. Sei una pezzente. Vai a morire male. Vai a morire. Soffri. Soffri, Daisy. Avete visto cosa stava facendo? Meno male che me ne sono accorto. Brutta... Malgaccia dei... Guardate, Daisy. Waluigi e Daisy hanno vinto e passeranno al turno successivo. Daisy. Maledetta. Ora, chi ha vinto tra questi? Sono dei com. Via un po'. Wario e Todd. Hanno battuto Mario e Yoshi. Molto bene. Ci siamo, ragazzi. Wario e Yoshi. Venci questo torneo per noi. Salto allo sciamme. Non l'abbiamo mai fatto, credo. Evita le api per non farti punce. Ah... Tipo salto con la corda, ma con le api. Brutto, eh. Bruttissimo. È tremendo. Terribile. Abbiamo infastidito le api? O forse lo è stato Winnie the Pooh? E non è che si notano subito le api, eh. Ok. Oh mio Dio. Ok. Saltate! Idioti. Oh mio Dio, non l'ho vista. Ma saltate, cretini. Ahah, non mi sono mai fatto prendere. Primo... Daisy. Daisy brutta, schifosa, come Ozzy. Se è pareggio. Oh mio Dio, santissimo, ce l'ho fatta. Un punto. Un punto, raga. Un punto. Daisy, Daisy, rimani giù. Siamo giunti alla battaglia finale. Wah, Luigi. Contro Daisy. La ballata delle ciambelle, eh. Qua, raga, rischiamo di perdola per colpa del mio bellissimo telecomando. Hello, way. È questo qua. Facile. Facile. È lui in mezzo. È lui. Cinque. Ok, piano, eh. Sempre lui, eh. Dovresti essere te. Mamma mia. Daisy ci ha provato, ma... L'abbiamo battuta. Non ancora. C'è un altro round. Qua, raga, abbiamo perso. Ho questo presemento che... Non lo so. Beh, ho vinto comunque. Ho vinto comunque. Era in mezzo, eh. Il nostro amichetto. Ok. E dopo una bella rivalità, ci sta una bella merenda. Wah, Luigi. Vince. La ballata delle ciambelle. Wah, Luigi ha vinto. Parapapara. Eccoci qua. Wah, Luigi. Is the winner. Congratulazioni. Molto bene. Torniamo adesso al meno principale, perché abbiamo concluso questa puntata di Mario Party 10. In realtà, tecnicamente, ci mancherebbe da vedere una modalità di Bowser. I suoi minigiochi, che abbiamo visto in Bowser Party. E Amiibo Party. E per il che la serie finirà, quindi mancano soltanto tipo due episodi. Quindi faremo veramente dieci puntate, forse. O forse no, ragazzi. Non ne vedete, ragazzi. Ma questo è tutto per questo episodio di Mario Party 10. E noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.